ciao con questo video termineremo la realizzazione dei componenti delle lampade da tavolo il prossimo componente è una lama piegata che presenta tre fori due saranno ancorati alle parti supporto 1 e 2 mentre il foro centrale alloggerà la parte perno molla oscuriamo la parte lampada premiamo shift più 1 e creiamo un nuovo schizzo sul piano front premiamo r e disegniamo un rettangolo dal centro coincidente con l'origine lo quotiamo 10 e 360 mm premiamo C e creiamo un cerchio con un vincolo midpoint al bordo inferiore e lo quotiamo 5 mm dal suo centro al bordo e diametro 4 mm sfruttando il vincolo di verticalità andiamo a disegnare un ulteriore cerchio sempre di 4 mm di diametro la cui distanza dal suo centro al bordo inferiore sia 225 mm disegniamo l'ultimo cerchio con diametro 4 mm con il suo centro sempre a 5 mm dal bordo superiore premiamo shift più 3 ed studiamo la regione dello schizzo per 10 mm e chiudiamo la funzione premiamo shift più 3 e sul piano right generiamo un nuovo schizzo premiamo l e tracciamo tre linee come visualizzato ripremiamo l per disabilitare il comando linea e premiamo i per rendere coincidente il vertice con il bordo superiore premiamo d e quotiamo la linea dal bordo destro dell'estrusione 5.5 mm premiamo i e rendiamo coincidente anche il vertice con il bordo inferiore quotiamo la linea 250 mm per visualizzare meglio la geometria possiamo avvalerci della modalità di visualizzazione translucent che sarebbe una via di mezzo tra la modalità wireframe presente in tutti i software CAD e la modalità shader consentendoci di vedere attraverso i solidi quotiamo con un angolo di 170 gradi le due linee premiamo o e creiamo un offset del profilo di 1.5 mm chiudiamo il profilo tracciando due linee una sul bordo inferiore e l'altra su quello superiore premiamo shift più e selezioniamo intersect e simmetri chiudiamo la funzione ripristiniamo shaded quindi premiamo shift più f e generiamo due raggiature con valore pari a 3 mm sui due bordi della lama piegata creiamo la cartella nella feature list e la rinominiamo lama piegata rinominiamo la parte con lo stesso nome rinominiamole a parte con lo stesso nome rinominiamole a parte con lo stesso nome andiamo ora a disegnare l'interruttore della lampada oscuriamo la parte lampada piegata premiamo shift più 5 e creiamo uno sketch nel piano top premiamo R e disegniamo un rettangolo dal centro vincolato all'origine con misure 22 x 12 mm ne disegniamo un altro questa volta con misure 15 x 7 mm estudiamo entrambe le regioni per 3 mm invertendo la direzione visualizziamo lo sketch 25 ed studiamo per 7 mm la regione centrale dello schizzo premiamo shift più 1 per creare uno schizzo sul piano front premiamo L e disegniamo un profilo come visualizzato quotiamo la linea superiore e quella laterale sinistra la distanza dal centro per le due linee dell'interruttore a 7.5 mm e a 0.5 mm la linea orizzontale dall'origine abilitiamo lo strumento arco dal centro facciamo click nel punto di tangenza delle due arete e facendoci aiutare dalle proiezioni dei vincoli andiamo a tracciare un arco coincidente alla linea verticale fino a quella inclinata premiamo D e quotiamo le due linee con un angolo pari a 135 gradi premiamo M e rimuoviamo la geometria in eccesso e la distanza dal centro della linea verticale per rendere totalmente definito lo schizzo premiamo Shift più E scegliamo Remove e Symmetric premiamo Shift più F impostiamo il valore Radius a 0.5 e selezioniamo i bordi dell'interruttore confermiamo la funzione e ne apriamo un'altra per raggiare la cornice dell'interruttore avendo due funzioni distinte potremmo modificando un solo parametro differenziare il valore di raggiatura dei due oggetti anche se in questo caso fanno parte della stessa geometria creiamo la cartella nella feature list e la rinominiamo Interruttore Rinominiamo la parte siamo giunti all'ultimo componente il supporto della molla ne approfittiamo per usare una nuova feature Circular Pattern premiamo Shift più 5 e nel piano top andiamo a disegnare un rettangolo dal centro vincolato all'origine con misure 21 x 10 mm premiamo L e Q per creare una linea di costruzione verticale che passi per l'origine ci servirà poi per usare lo strumento di ripetizione circolare lo andiamo ad estrudere in modo simmetrico al piano per 1.5 mm creiamo sulla faccia superiore un nuovo schizzo premiamo G abilitando lo strumento rettangolo e andiamo a disegnarne uno che abbia il vincolo di coincidenza con il vertice inferiore destro della parte esistente premiamo D e lo quotiamo 10 e 1.5 mm premiamo Shift più E ed andiamo ad estruderlo per 11.5 mm invertendone la direzione ora con lo strumento Mirror andiamo a creare una copia della funzione in modo simmetrico al piano front abilitiamo Mirror espandiamo il menu a tendina e scegliamo Feature Mirror come feature andiamo a scegliere l'ultima estrusione eseguita appunto Xtrude24 selezioniamo quindi il campo Mirror Plane e andiamo a scegliere il piano front chiudiamo la funzione lo strumento Circular Pattern lo troviamo sotto Liner Pattern leggiamo le istruzioni crea più istanze di parti, facce o funzioni in modo uniforme attorno a un'asse 1. seleziona le parti, facce o feature da ripetere 2. seleziona l'asse 3. specifica l'angolo tra le istanze 4. specifica il numero di istanze espandiamo il menu a tendina per selezionare Feature Pattern come feature scegliamo le ultime due ovvero Xtrude24 e Mirror1 come Axis of Pattern scegliamo la linea di costruzione che possiamo selezionare visualizzando lo sketch 27 come angolo impostiamo 180 e il numero di istanze a 2 spuntiamo Apply per Distance per unire la funzione con la parte esistente raggiamo i due bordi con valore di raggio pari a 1.5 mm creiamo uno sketch sulla faccia della parte premiamo C e disegniamo un cerchio vincolandone il centro alla proiezione del punto medio del bordo inferiore assicurando così di trovarsi a metà della flange quotiamo il cerchio 4 mm ed il suo centro dal bordo a 5 mm premiamo Shift più E scegliamo Remove e con End Type Free Goal premiamo Shift più F e rendiamo sferici i profili della flangia impostando un raggio 5 mm è arrivato il momento di analizzare un altro aspetto della feature list relativo al tempo innanzitutto la feature list termina sempre con una barra grigia con uno spessore superiore alla classica linea si chiama Rollback Bar e consente se trascinata verso l'alto di sopprimere le varie operazioni avvenute nel tempo andando a ritroso ma lo vedremo meglio in un altro video la seconda cosa da considerare anche se abbastanza ovvia è che ogni operazione eseguita come ad esempio un nuovo schizzo o una nuova feature vedono solo le operazioni precedenti e non quelle successive per fare un esempio pratico ora trasciniamo la funzione Circular Pattern sotto all'ultima funzione realizzata ovvero Fillet 8 dando così la possibilità di aggiungere quelle feature all'interno della rotazione circolare evitando inutile lavoro all'utente se non avessimo spostato la funzione in fondo alla feature list Circular Pattern non avrebbe consentito di aggiungere lavorazioni effettuate successivamente alla sua creazione creiamo la cartella e la rinominiamo supporto a molla rinominiamo la parte con lo stesso nome rinominiamo la parte con lo stesso nome rinominiamo la parte con lo stesso nome Nel video precedente ho commesso un errore nella parte snodo lampada nello schizzo 12 non ho quotato l'altezza e non ho praticato il foro di fissaggio questo mi dà l'opportunità di far vedere un esempio di modifica di una geometria oscuriamo supporto a molla e visualizziamo snodo lampada espandiamo la cartella relativa e facciamo doppio clic sullo sketch 14 premiamo N quindi D e quotiamo l'altezza a 27.5 mm chiudiamo lo schizzo creiamo un nuovo schizzo sulla faccia della parte premiamo N quindi C e disegniamo un cerchio vincolato all'origine e lo quotiamo 4 mm premiamo Shift più E selezioniamo Remove il nuovo schizzo e la funzione Extrude sono finiti dopo la cartella supporto molla li selezioniamo e li tasciniamo all'interno della cartella snodo lampada nel prossimo video andremo ad assemblare i vari componenti nell'ambiente assembly vi aspetto